Diamo il benvenuto all'Avvocato Maria Luisa Missiaggia che oggi per dire donne terrà un approfondimento dedicato alla separazione e a tutto quello che è collegato alla separazione e al divorzio tra i coniugi, quindi anche al famoso assegno di mantenimento che è sempre oggetto di contese e anche di tante polemiche. Innanzitutto benvenuta, Avvocato. Grazie, ben trovati e grazie soprattutto per offrirmi la possibilità di dare questa informazione, questa comunicazione su un tema così particolare come quello delle separazioni e dei divorzi su cui c'è una comunicazione ampia da un lato però spesso non precisa e quindi le persone che vengono in studio da me moltissime addirittura non sanno che ci sono due fasi, una di separazione e una di divorzio e non sempre le fasi da un punto di vista giuridico coincidono. Allora partiamo con quella della separazione che è preliminare e prodromica per quella del divorzio, cioè non si può divorziare senza separazione. Separazione consensuale, separazione giudiziale. La separazione consensuale è quando c'è un accordo tra le parti e l'accordo consente addirittura di fare quello che tutti conoscono come divorzio breve. Breve perché addirittura dopo soli sei mesi si può divorziare. La separazione consensuale si può fare sia davanti a un giudice e anche solo con gli avvocati, due avvocati che in negoziazione assistita riescono a trovare un accordo per le parti, sottoscrivono insieme alle parti l'accordo stesso e addirittura in dieci giorni ci si separa. Quindi un tempo veramente breve per acquistare e conquistare di nuovo la libertà e per procedere poi al divorzio. In questo accordo si possono fissare e si devono fissare tutte le condizioni necessarie che sono il mantenimento, il piano di frequentazione per i figli, mantenimento per il coniuge se sussistono determinate condizioni e per i figli sempre perché i figli hanno la necessità di essere mantenuti in relazione sia al tenore di vita che poi vedremo successivamente non va mai a scomparire che in relazione anche a quanto guadagnano i genitori. Ed è normale sottolineare questo requisito perché si ritiene che il genitore non debba più pagare il mantenimento o debba pagare una somma bassissima per il minore perché ha sparito il tenore di vita. No, questo è valido solo per il coniuge e solo per il coniuge in determinate condizioni. L'accordo sia in realtà il sistema più efficace per due persone che decidono di separarsi sia nell'interesse personale perché ci si riprende la propria vita velocemente e anche con autonomia senza perseguitare l'altro perché ci ha voluto lasciare sia per i figli che non subiscono un conflitto e che quindi non vengono danneggiati alle volte irrimediabilmente. Ci sono diverse coppie anche famose più o meno VIP che ricorrono a questo strumento. Come si fa? Quando si fa? L'accordo come si fa? Io ho scritto un libro che si intitola Separarsi con amore si può dove indico un metodo per separarsi con gli accordi. È chiaro che per separarsi con un accordo bisogna innanzitutto prendere atto che la situazione per quella che è non è più gestibile e che non è nemmeno gestibile la rincorsa di chi non ci vuole più. Quindi prendere atto che o la persona ci ha tradito oppure non ci considera oppure non vuole stare con noi oppure non parla con noi e non attendere che l'altro faccia la prima mossa ma andare direttamente da un tecnico o da un avvocato e decidere quindi fissarsi degli obiettivi come fanno gli sportivi che si fissano gli obiettivi per raggiungere per vincere delle gare fissarsi degli obiettivi e decidere cosa si vuole. Spesso le persone vengono da me e parlano di quello che vuole l'altro e non sanno neanche cosa chiedere invece la cosa importante per fare un accordo è sapere innanzitutto che cosa si vuole, poi vedere se è percorribile quello che si vuole e poi comunicarlo all'altra parte tramite sempre un avvocato e quindi non direttamente soprattutto se ci sono conflitti perché lì poi diventa complicatissima la comunicazione. Quando si è raggiunto a questa prima fase sarà l'avvocato a stabilire quali sono i requisiti migliori per fare un accordo, quanto è in gioco perché se ci sono grosse proprietà o grossi patrimoni come per esempio nel caso di Amazon abbiamo visto che i due avevano veramente milioni di patrimoni da dividere e loro avevano anche la fortuna di avere degli accordi prematrimoniali pregressi e quindi non hanno fatto fatica a eseguire quello che ancora noi in Italia non possiamo fare perché gli accordi prematrimoniali non sono validi, però il nuovo trend è proprio questo, cioè quello di lasciare andare laddove la situazione non è più gestibile e fissare le regole per chiudere velocemente e ricominciare da capo in modo anche migliore. Ecco, se i due coniugi entrambi lavorano e si separano nessuno deve mantenere l'altro, è questa la regola Sì, anche se c'è moltissima disparità di patrimonio e di reddito tra i due, è evidente che andrà non valutato il tenore di vita come si faceva prima, però sicuramente altri requisiti e cioè quanto la donna ha ha influito nell'ambito della relazione personale, della relazione familiare, che cosa è stato deciso tra i due se lei dovesse lavorare e guadagnare solo 1000 euro per consentire a lui di guadagnarli in 10 milioni e a quel punto lei sicuramente, nel caso specifico lei, ma potrebbe essere anche lui, diciamo anche questo perché non è non necessariamente il coniuge debole debba essere la donna, ci sarà un'integrazione dell'assegno di mantenimento, quindi i parametri non sono più quelli del tenore di vita che, attenzione, vigeva solo nella separazione e non anche nel divorzio, perché nel divorzio il tenore di vita non c'era neanche prima. L'assegno divorzile veniva ad essere concesso se c'era un assegno di mantenimento nella separazione, se non c'era già era più complicato ottenerlo, però si sono sostituiti al tenore di vita altri criteri che sono quelli della perequazione tra i redditi, del contributo alla vita familiare che ha uno dei due e che ha permesso il guadagno maggiore all'altro. E nel caso di separazione per tradimento? La separazione per tradimento è molto seguita perché addirittura il tradimento viene penalizzato e quindi c'è la possibilità di un risarcimento sia nel caso di tradimento fisico ma anche nel caso di tradimento online, cioè addirittura è possibile ottenere un addebito della separazione quindi con una sentenza a parte, anche il risarcimento del danno perché non è nell'ambito della stessa sentenza, anche se scriviamo delle chat amorose a una persona senza che ci sia il consenso del partner e non c'è l'addebito nemmeno se questa relazione extraconiugale non è stata la causa esclusiva della separazione. Le separazioni conflittuali, possiamo già dirlo in questa sede, quanti danni fanno ai figli di queste coppie? Tantissimi, tantissimi, spesso irrimediabili e il conflitto, dico io, è la manifestazione più esplicita di un'immaturità e di un egoismo genitoriale immenso. I tribunali sono i primi che sanzionano pesantemente i coniugi che continuano ad avere un conflitto che poi è sempre comunque sterile. Vi volete separare, vi odiate, sospendete un attimo il giudizio, sedetevi con dei consulenti che possono essere anche dei mediatori familiari. La mediazione familiare è una grandissima realtà che va usata e non costituisce, come spesso anche i tecnici dicono, un elemento che rallenta la giustizia. No, perché attraverso la mediazione familiare noi possiamo anche evitare il giudizio e portare in giudizio un accordo che poi venga siglato dalla magistratura. Ovviamente questo che abbiamo detto e che lei ha spiegato sulla conflittualità cambia totalmente quando uno dei due coniugi è ad esempio un soggetto violento, un soggetto... Parliamo di una situazione di... Anche lì però, attenzione, come protocollo per le donne che si trovano di fronte ai soggetti violenti, io suggerisco sempre una strategia di allontanamento intanto emotivo e spirituale senza che, se non ci si può allontanare fisicamente, allontanamento che vuol dire incominciare a pensare cosa bisogna fare se questo signore si comporta in un certo modo. Non è che improvvisamente questo ci uccide. Prima dell'atto finale ci sono una serie di segnali che le donne spesso sottovalutano. In questi casi, infatti, io neanche le avviso le controparti, io deposito direttamente il ricorso perché non c'è bisogno di avvisare una persona che si comporta in questo modo. Gli do solo la possibilità anche di fare peggio ed ovviamente in questi casi accordi zero. A proposito di separazioni, una separazione illustre che ha occupato le pagine dei giornali è quella di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario. Ora sappiamo che la signora dovrà restituire l'assegno ricevuto da marzo 2014. Cosa è successo? Beh, è successo che già in Corte d'Appello era stata ribaltata la sentenza del primo grado che aveva concesso un milione e mezzo al mese alla signora per l'assegno di mantenimento essendo presenti una serie di criteri che erano quelli della solidarietà, del tenore di vita al tempo. Poi la Corte d'Appello ribalta la decisione sostenendo che quei criteri non potevano essere applicati al caso specifico perché la signora aveva già ottenuto in costanza di matrimonio un ingente patrimonio da parte di Silvio Berlusconi che aveva abbondantemente provveduto a garantirle anche delle rendite derivanti dal patrimonio che gli aveva comprato o acquistato e quindi ribalta e annulla questo, revoca questo assegno di mantenimento. Poi con la Cassazione c'è la conferma di tutto questo proprio con una motivazione precisa che è quella che l'assegno di mantenimento se non ha una natura alimentare e quindi strettamente dovuta al sostegno della vita mensile può essere, deve anzi essere restituito e quindi adesso lei dovrà dare 45 milioni più 15 milioni di interessi per un totale di 60 milioni. Bene, questo approfondimento termina qui e ci diamo appuntamento ad una prossima intervista in cui affronteremo altri aspetti legali importanti della vita familiare e sociale.